I racconti di Natale di Ercole e Colombo e siamo con un nuovo pilota. Il nome è, tra l'altro di attualità, Mario Andretti. Qui vai proprio nel fondo al cuore. Io di piloti ho avuto la fortuna di vederne tanti, tantissimi direi. E se devo dare un aggettivo per Mario Andretti, devo dire che oltre a essere stato un grandissimo pilota, un campione, è quello che posso definire una grande persona, un uomo, lui è bello proprio. Lui ha una disponibilità che non ho trovato in nessun altro pilota. Anche in questi giorni, io sono stato due sere con lui e devo dire che ha firmato migliaia di autografi, non ha mai fatto un gesto di stizza e diceva, pensa a metterli un ragazzino di oggi al suo posto. Non so, forse durava tre minuti, quattro, esagerare perché è Natale. E lui è stato lì per delle ore, incredibile. Ma lui è Mario Andretti e Mario Andretti in questi giorni era seguito da persone che probabilmente non l'avevano mai visto gareggiare. Eppure Mario Andretti è Mario Andretti, anche loro sanno chi è.